Quali sono le maggiori difficoltà che un coro incontra? Nella attuale situazione delle parrocchie la difficoltà maggiore è data dalla disponibilità delle persone a mettersi in gioco e a prestare il proprio servizio gratuitamente per la vita della parrocchia stessa, per seguire l'assemblea, per seguire le riunioni in parrocchia, per avere un incontro con il parroco e un cammino comune. Altra difficoltà grande è data dalla mancanza di musicisti perché purtroppo i musicisti ci sono ma suonano solamente a pagamento e quindi trovare gruppi di gente, di giovani disposti a venire a fare le prove la sera, a studiare pezzi nuovi, a portare delle nuove cose è senz'altro per noi come per tante altre parrocchie una grande difficoltà. Noi siamo nati come i genitori dei bambini del catechismo e siamo rimasti solamente noi, non siamo riusciti ad accogliere altre persone perché nessuno si è voluto proporre. Guardi tantissime, come mamma di una delle bambine che frequenta questo coro ne incontro tantissime proprio dal punto di vista logistico considerando che viviamo a Roma in una città grandissima dove lo spostamento è sempre molto distante e molto faticoso. Le bambine di base ovviamente frequentano le scuole d'obbligo italiane, frequentano per piacere, diciamo, per voglia di conoscere appartenenza anche alla Polonia, la scuola polacca il sabato mattina e il sabato pomeriggio ci chiedono di andare in chiesa, in centro, a cantare proprio con la scuola. Quindi le difficoltà e sacrificio è tantissimo sia da parte delle famiglie che dalla parte delle bambine, ma lo facciamo per loro proprio perché loro ce l'hanno chiesto a me, mia figlia e a tante altre mamme le loro bambine. Allora, generalmente se parliamo di adulti ci sono difficoltà date dalla vita di tutti i giorni anche per l'organizzazione e quindi trovare il tempo per fare le prove, trovare il tempo per dedicare il tempo giusto a questo tipo di attività. Per quanto riguarda anche trovare, è difficile anche trovare dei brani che siano adatti anche al tipo di parrocchia nel quale si trova. Noi ad esempio siamo una parrocchia di periferia e abbiamo bisogno magari di brani che siano più fruibili per le persone che frequentano la nostra parrocchia. E poi adesso questo ovviamente poi è dato da chiesa e chiesa anche per una questione logistica, di spazio, di organizzazione, avere il posto per gli strumenti, per proprio il coro fisicamente, poi se il coro è grande, piccolo. I problemi possono essere tanti, ma secondo me sono tutti problemi che si possono superare in qualsiasi modo, con un po' di pazienza e con un po' di attenzione e di lavoro, qualsiasi problema è superabile. Nel mio caso, che è un coro di bambini, la principale difficoltà è quella di trovare questi ragazzi. I ragazzi adesso, in questo periodo storico, hanno tremila cose da fare, sport, scuola, attività pomediridiane, qualsiasi cosa. E quindi trovare dei ragazzi che ogni settimana trovano un'ora e mezza per provare è difficile. Detto questo, la difficoltà poi è trasmettere all'assemblea e alla comunità parrocchiale l'importanza del canto, che purtroppo nella società di odierna spesso viene tralasciata. Le difficoltà possono essere anche numerose. Bisogna innanzitutto vedere anche i parroci delle varie parrocchie, come vedono anche i cori, perché ci sono, per fortuna non nella nostra parrocchia, perché comunque tutti i parroci che ci sono alternati, ultimamente comunque da quando sto nel coro, io nel 2001, sono un paio di parroci, però amano molto il coro e amano che il coro accompagni la parrocchia e accompagni la liturgia. Comunque ci sono delle difficoltà anche proprio all'interno, anche per creare un bel coro per i coristi, perché sicuramente l'impegno è un grande impegno far parte di un coro parrocchiale. Ripeto e sottolineo il fatto di un coro parrocchiale, non solo nei momenti forti, non solo nei concerti, perché quello è molto bello, però sarebbe molto facile, ma accompagnarlo sempre, in tutte le messe, in tutte le domeniche, le prove la sera, magari anche la gente un pochino più anziana, perché trovare dei giovani, delle voci nuove è sempre difficile. È un bel impegno, però alla fine dà anche tanta soddisfazione, quindi uno lo fa con tanto piacere. Ma calcoli che, diciamo, un coro di una quarantina di persone, 50, anche con le voci bianche, e il problema è che la preparazione, certo, c'è chi lavora ancora, no? Quindi si fanno le prove, una volta a settimana, di un'ora e mezzo, e poi però bisogna studiare anche a casa, cioè cercare di fare anche a casa la propria parte, perché sennò sarebbe troppo poco, un'ora e mezza. A parte questo, diciamo, mi pare che tutti siamo abbastanza soddisfatti, voglio dire, è un sistema, diciamo, la musica aiuta per tanti fattori, per superare le proprie problematiche, diciamo, per uscire fuori un po' dal proprio, diciamo, quotidiano. Quindi, diciamo, è positivo, è salutare e aiuta la comunità. Sicuramente le difficoltà principali sono anche basate sul repertorio. Noi, ad esempio, animiamo la messa dei ragazzi che si preparano all'iniziazione cristiana, per cui questo ovviamente ci porta a una scelta ben determinata, un repertorio più adatto ai ragazzi e gli davanti che cercano attenzione iscriviti al fatto, Grazie a tutti